Equilibrata anche se la prima squadra ha avuto il sopravvento, molto bene Rodin Strasser nella primavera che tra l'altro ha impiegato Brian Cristante nelle inediti vesti di centrale difensivo. Nella ripresa poi verso la fine del secondo tempo la doppietta di Giampaolo Pazzini, sempre comunque su azioni propiziate da Niang, spostatosi poi sulla sinistra dell'attacco con Robinho invece.